Non ti avevamo mai sentito parlare ed è giusto perché te lo meriti anche, tra virgolette, un po' presentarti alla piazza di Avellino perché ti hanno gettato praticamente nella mischia per sfortuna della squadra ma anche per fortuna tua perché ti sei potuto mettere in mostra per sfortuna della squadra, per il Covid ovviamente, per i casi di positività che ci sono stati Insomma, qual è stato il tuo impatto con Avellino? Ma devo dire la verità, mi sono trovato benissimo subito sia con la città che con il gruppo squadra mi hanno fatto sentire subito dentro la famiglia, dentro il branco di lupi sono stato lanciato subito dopo tre giorni che ero qui, appunto come dicevi tu per sfortuna quella volta lì si è fatto male Pasquale però alla fine poi c'è stato varie dicessitudini tra Covid, infortuni e cose così e quindi mi sono dovuto adattare, non ho avuto tempo di neanche presentarmi a Eccola Piazza però sicuramente le mie prime impressioni sono state buone da parte della società, della squadra appunto, del mister che mi hanno fatto sentire già dentro la famiglia come se fosse qui da metà luglio e di questo devo ringraziare tutti quanti Ecco, la chiamata che è arrivata da Avellino, come sta? Mi ha fatto sicuramente piacere, mi stavo allenando da casa, aspettavo questa chiamata purtroppo in estate ci sono stati degli avvicendamenti che purtroppo mi hanno fatto saltare alcuni trasferimenti e di conseguenza sono rimasto a piedi, però ho sempre lavorato per aspettare in attesa della chiamata giusta e vabbè, quella della Avellino sicuramente non ci ho pensato due volte anche se ero in un'altra società, non ci avrei mai pensato a vengo o non vengo cioè sarei venuto anche a piedi L'avete visto voi da casa, voglio dire, le uni è pieno a piedi Ma devo dire la verità, il mister e i ragazzi l'abbiamo preparata benissimo nonostante abbiamo avuto veramente due giorni di preparazione a questa partita dopo la batosta morale che abbiamo subito al novantesimo con la Ternana però ci siamo rimboccati subito le mani appunto con la forza del gruppo e con la capacità dello staff e del mister siamo riusciti a preparare la partita in migliore dei modi e penso si veda in questo primo tempo, stiamo facendo vedere delle ottime cose penso, come dicevate giustamente voi, io sono qui da sette partite ma forse uno dei Avellini più belli della stagione grazie mille Riccardo, grazie a voi Uniform, il partner per un futuro di successo per informazioni e contatti telefono 0825 73 842 329 74 90 729 email info-formazioneuniform.it www.formazioneuniform.it Uniform S.R.L. via dei due principati 143 Avellino Uniform S.R.L. via dei due principati 143 Avellino